La questione Nintendo e informazioni che vengono attribuite ad essa in questo momento è una giungla. Non si capisce nulla, esce la Switch 2, non esce, 2025, terze parti, Pokémon, nuovo Pokémon... Cerchiamo di fare chiarezza partendo da quello che sappiamo, punto A, punto B e ipotesi, ma tenendo un filo, perché se no non ne usciamo. Ciao ragazzi, io sono Zerganti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo nel momento clou, in quello caldo dell'anno per quanto riguarda il colosso giapponese che oltretutto è diventata l'azienda più potente di Giappone, quindi è la più importante azienda giapponese attualmente che è presente sul territorio. Ed è il momento in cui vengono annunciati i Direct, il famoso febbraio-marzo Direct che tutti aspettiamo e poi ne parleremo perché secondo me verrà splittato. La questione Switch 2 che ha avuto un sacco di cambi di fronte per quelli che riguardano i rumor e le ipotesi. Abbiamo il Pokémon Day, quindi ci sarà anche quello e ci sarà Game Freak anche nelle sue IP che non sono principalmente quelle di Pokémon. Insomma, c'è un botto di roba di cui parlare, ma sta arrivando tutta insieme e è un po' complicato tenere un punto. Partiamo da quello che sappiamo. Sappiamo che domani, 21 febbraio, alle 15 ore italiane, ci sarà il Nintendo Direct e sarà il Nintendo Direct di febbraio. Quello che io all'epoca ho detto, guardate, secondo me Switch 2 viene annunciata tra febbraio e marzo. Non può essere febbraio, non può essere domani perché è stato specializzato che la Direct di domani sarà solo per le terze parti. Quindi andrà a annunciare tutti quei titoli che non sono first party Nintendo ma terze parti. E questo da una parte smorza un pochettino l'entusiasmo di molti, ma se la vogliamo vedere da un altro punto di vista è interessante. Se ci facciamo un attimino un background e un rientro a quella che era la notizia di Phil Spencer della settimana scorsa delle titoli Xbox che vanno anche su altre piattaforme, vi invito a guardare questo video giusto per farvi un'idea. Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, ci sono dei titoli che sappiamo che migreranno e andranno su altre console. Potrebbe essere un buon momento per parlare di quelle, ma soprattutto se facciamo quella famosa, no, predizione di Nostradamus che dissi io, ovvero, a marzo annuncio Switch 2 e uscita a fine anno. Perché potrebbe effettivamente, essendo che quello di febbraio è il Direct delle terze parti, diventare poi quello di marzo, se ci fosse, quello grosso, ciccione, ma ci sono i rumor e si dice che potrebbe avvenire questo. Quindi per domani abbiamo solo terze parti, però ci sono altre due informazioni che vanno concomitanza con questa, ovvero, bene le terze parti, però quali sono gli altri terze parti? Ragazzi, Game Freak è una terza parte. Game Freak, di fatto, sì, ok, Pokémon, benissimo, The Pokémon Company, un terzo di Nintendo, un terzo di Game Freak, un terzo di Monster Co, benissimo, però è comunque un third party. E ci sono numerosi voci inerenti alle altre IP al quale Game Freak sta lavorando e che magari alcuni di voi sono interessati. Vi ricordo che nel novembre del 2023 c'era Pandaland, non Pandaland, ma Pandaland, che era stato registrato come marchio, era stato messo come probabile videogioco, c'era stato tutto il Project Bloom che, appunto, dagli autori di Pokémon era in progetto e, essendo, vabbè, una private vision sussidiare di Take Two, però, che aveva annunciato di aver fatto partire con Game Freak e aveva creato questo nome in codice di Project Bloom. Quindi potrebbero essere informazioni che lasciano presagire lo sviluppo di altri titoli paralleli a Pokémon, che poi questi titoli vengano rilasciati nel 2024 o che comunque siano inerenti al 2024, è probabile, perché se tu fai un direct third party senza avere ancora annunciato una console nuova, di nuova generazione potente come la Switch 2, penso che sia abbastanza plausibile che ti sia parlando di uscite nell'immediato futuro. Quindi è ipotetico, chiaramente tutto quello che dico è ipotetico, che si possa vedere una Fire Rush, per dirvi, su Nintendo Switch a breve, nei prossimi due mesi, aprile-giugno, aprile-maggio, e sarebbe una grande roba se fosse confermato, e altri titoli che potrebbero essere appunto annunciati nel breve periodo. Questo non toglie che magari arrivi Game Freak ed esca fuori dal venticampo e vi dica Project Bloom 2025. E allora a quel punto potremmo pensare a una questione di Nintendo Switch 2. Seconda cosa, non dimentichiamoci che esiste e sarà presente il Pokémon Day il 27 di febbraio. E allora a quel punto ti venda di aspetta un momento, allora effettivamente ci potrebbe essere questa ricotomia, perché là viene dedicato solamente a Pokémon, mentre qui Game Freak si occupa degli altri come terze parti. E questa sicuramente sarà un qualcosa di interessante riguardo a quello che poi potrà esserci all'interno del Pokémon Day, quello per me attualmente è ancora un po' fumoso, ora non voglio entrare nello specifico perché voglio parlare di Nintendo in generale, però ormai a parte i soliti rumors, bianco e nero 2, rifacimento, oppure non lo so, altri titoli che non sono principali ma che sono spin-off, boh potrebbe essere, sinceramente lì io non entro ancora nel dettaglio perché è la questione un pochettino lunga. Terzo punto. Ok, quindi tu mi hai detto che abbiamo Nintendo Direct di febbraio, avremo un Nintendo, avremo un Pokémon present il 27 di febbraio, sempre alle 15 ore italiane, e quindi la Nintendo Direct di marzo, quella che tu pensi che esista, cosa farà? Se arriva la Nintendo Direct di marzo, allora a quel punto io penso, e lì, e qua mi gioco tutto, ma al di là di quello è un'ipotesi, chiaramente si gioca da questo punto di vista, non abbiamo la certezza, a quel punto io immagino che possa arrivare l'annuncio. E poi qua potreste criticarmi un paio di cose, recentemente io vi avevo detto che Nintendo Switch sta vendendo e ha venduto come non pensava nessuno, se pensate che nella fine del novembre del 2023 aveva venduto più di 134 milioni di copie, stando dietro alle prime due console di sempre, che sono per l'appunto Nintendo DS con 154 milioni di copie, e PlayStation 2 con 155 milioni di copie. Tendenzialmente si può dire che ormai tutti hanno il Nintendo Switch. E questo da una parte ci crea un'ipotesi del, vabbè, ormai ce l'hanno anche i sassi, fate l'annuncio, e andiamo sulla soft conversion verso quella che sarà Nintendo Switch 2 a fine anno, annunciata probabilmente nella Direct di marzo. Oppure c'era purtroppo quell'altra notizia che potrebbe andare, ed è verosimile per la mia ipotesi anche quella, che no, facciamo andare ancora un pochettino questo anno con Nintendo Switch normale, perché tanto sta vendendo e stiamo incassando, quindi let's go, tutto bene Power Ranger, tanto poi c'è Nintendo Direct di estate, che è quello più grosso, solito, che noi tiriamo giù, dove buttiamo giù anche le first party, che vengono annunciate, e poi, bom, verso Natale, facciamo un Direct a ottobre-novembre, dove spariamo nel caso ipotetico per l'anno prossimo. Tanto ormai sappiamo che Nintendo cosa fa tendenzialmente? Fa le uscite a marzo-aprile, uscendo dai canoni di Natale, perché riesce a stare in quel modello di business. Potrebbero essere entrambe le situazioni, contando che in quest'ultima ci sarebbe anche da valorizzare, da pensare all'ipotetico ritardo dello sviluppo del first party, perché d'altronde noi cosa ipotizziamo come first party? Ipotizziamo un Mario 3D principale, un Mario Kart principale e il famoso Metroid Prime 4, che alleggia nell'aria ormai da più di 6-5 anni. Quindi magari ci sarebbero anche da aspettare gli sviluppi e magari alcuni ritardi, gli ultimi, relativi a questi eventi. È una questione molto, molto, molto emozionante per me, perché comunque c'è bisogno, ma questo lo dico da utente, chiaramente non lo dico da mercato, perché d'altronde tu sei un'azienda, continui a vendere, questo per dirvi è un pipiripi l'undici, è uscito il sedici e tu dici vabbè ma la gente continua a vendermi l'undici, eh ma vabbè ma noi vogliamo un prodotto migliore perché ce lo meritiamo, bla bla bla, che poi non regge neanche a questo esempio perché fa niente, facciamo conto che questo sia l'undici, piripipu, vogliamo tutti il dodici, sono quattro anni che vi continuo a vendere l'undici, tanto continuate a comprarlo e io mi prendo il tempo che voglio per darvi il dodici. Diciamo che sta un po' vivendo questa situazione da un punto di vista aziendale, da un punto di vista di utenza io veramente raga, con tutto l'amore del mondo, io veramente, veramente, con tutto l'amore del mondo, però il mio tostapanino ha fatto il suo dovere, ha fatto quello che doveva fare, c'è addirittura Mario vs Donkey Kong che è primo vendita in UK, oltretutto completata al 100%, bene, basta, vi prego, date dignità, dategli una NVIDIA con il DLSS, con il Ray Tracing a Nintendo e permetteteci di sognare, almeno, almeno nel 2025, a breve, o inizio 2020 o almeno fine 2024, che poi se ci pensiamo non cambia neanche tanto, perché da qui a ottobre, novembre, a marzo, alla fine, non cambia molto, sempre se viene tutto confermato, sempre vedendo gli hardware, vedendo le innovazioni, più che altro è che tutta questa hype riguarda Nintendo, che magari a molti di voi non interessa, perché magari giocate al PC, giocate a voi, non lo so, siete giocati a Playstation, Xbox, quel che volete, però, secondo me, è importante sempre dare uno sguardo alla grande N, per quello che è l'innovazione, non tanto tecnologica, ma delle idee, principalmente per i suoi modi di vedere un approccio nuovo e fresco al gameplay, che sempre è di ispirazione, come abbiamo sempre visto in passato, anche alle altre realtà, che poi sia un campionato diverso dal punto di vista dei videogiochi, lo sappiamo, ma sappiamo che anche nel tempo andrà un po' a smaterializzarsi, pensiamo a quello che è stato detto ultimamente da Microsoft, pensiamo a quello che è stato detto da Totoroki, quindi sappiamo che sia Sony Interactive, sia Microsoft, in un futuro tenderanno sempre di meno, tenderanno sempre di più ad avere della multipiattaformità tra i loro titoli, andando poi di fatto ad aver eliminato quello che è la console war, ne ho parlato in tanti video precedenti a questo. Quindi, vediamo che cosa dicono domani sul third party, e già se saltasse fuori un iFi Rush sarebbe una gran figata, anche un Sea of Thieves, dando poi adito a quello che fu il famoso X Tito Tweet, che c'era appunto la nave blu, la nave verde, la nave rossa. Vediamo cosa ci dice Game Freak, se dovrebbe essere presente come third party, se ci promette qualcosa come Pandeland ci dice qualcosa, o semplicemente ci fa vedere qualcosa di Project Bloom. aspettiamo il 27 poi per il Pokémon Present, per avere un'altra faccia della medaglia, anche per farci un'idea, perché in base anche a quello che viene detto da Game Freak e da Pokémon Company, poi ci si può fare due calcoli, perché d'altronde Pokémon non può perdere l'occasione di arrivare magari dopo, tardi, in una situazione diversa anche di annuncio, rispetto a quella che è una politica della console nuova che deve uscire, quindi c'è una comunicazione orizzontale tra le varie aziende, e poi aspettiamo che ci dicano se esce un Nintendo Direct a marzo. Se esce un Nintendo Direct a marzo, la mia hype salirà alle stelle, e vediamo quello che accadrà. Sono molto emozionato, spero veramente che arrivi qualcosa di figo, bello e interessante. Detto questo, signori, io vi ringrazio sempre per la vostra cortesia attenzione, grazie mille per avermi scelto in questa giornata a vedere questo video, vi auguro una buona giornata, United State of Zerga, ciao belli! Sous-titrage ST' 501